La campagna di rafforzamento del Lavellino porta con sé alcuni addi inevitabili. Sulle corsie bianco-verdi al momento sembrano coperti con Rizzo e Ciancio sulla destra e Tito Mignanelli sulla corsia mancina. Questa grande concorrenza e competitività porta a qualche riflessione da parte dei calciatori che vogliono avere. Maggiore spazio è il caso di Emanuele Adamo. L'esterno classe 98 e al passo da Dio coi lupi si accaserà al Monterosi. Lavellino ambiziosa società neopromossa dopo aver collezionato 34 presenze e due reti in Irpinia. E così dopo Giuliano Laiz arriva il secondo addio in casa Vellino. L'esterno si è rivelato spesso un elemento prezioso per Braglia che ha dovuto fare i conti con infortuni e Covid. In uscita ci sono come sempre Rocchi e Marco Silvestri senza tralasciare le tante offerte per Bernardotto e Santaniello. Su quest'ultimo fortissimo l'interesse della Turris e della Juve Stabia di Novellino che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del classe 90. Grazie.